Un salto a disposizione per creare un abito Armani su misura a cominciare dalla scelta del tessuto. Per presentare a Brescia le sue nuove collezioni, un marchio che da solo rappresenta l'eccellenza della moda italiana nel mondo come Giorgio Armani, ha scelto il negozio Carnevali, vero e proprio punto di riferimento nel settore dell'abbigliamento per tante generazioni di bresciani. Direi che sicuramente la moda italiana nel mondo perché Giorgio Armani credo non abbia nessun bisogno di commenti talmente famosi e conosciuti. Sì abbiamo fatto questo evento in quanto noi avendo tutte le linee di Armani, della collezione jeans, Armani collezioni e altre collezioni importanti, sta lanciando in anteprima nazionale qui da noi questa collezione di abiti su misura della sua collezione Armani collezioni e la stiamo lanciando presentando in questi giorni qui nel nostro negozio, nel nostro punto vendita e ci sarà da oggi ufficialmente sempre presente quindi chi vorrà venire a provare a vedere è un su misura vero quindi misurazione, bisogna avere un attimino di pazienza perché centimetri, spalla, gamba, un su misura vero vero con una vasta gamma di scelte di tessuti. L'abbinamento con Armani conferma l'impegno di Carnevali nell'offrire alla propria clientela con un trattamento esclusivo il meglio della moda italiana. Sicuramente noi cerchiamo di poterci confermare sempre all'avanguardia della moda soprattutto e speriamo di incontrare il favore della clientela che ci segue e cerchiamo sempre di stimolarla con qualcosa di nuovo sicuramente. Siamo sempre molto aggiornati perché logicamente oltre Armani abbiamo anche tante altre aziende che tutti gli anni inseriamo nuove e seguiamo costantemente la moda. abbiamo appunto sei compratori che fanno solamente quello dalla mattina alla sera a seguire le tendenze moda e la qualità dei prodotti.